Cristo di San Giovanni della Croce Cari ragazzi e care ragazze, voi sapete che una parte fondamentale della Pasqua di Gesù è la sua crocifissione. Moltissimi artisti in ogni epoca hanno voluto rappresentare questo avvenimento, e in modo sempre personale, spesso cercando di stimolare in chi guarda una riflessione su questo grande mistero. Oggi vi presento un bellissimo dipinto realizzato da un artista spagnolo di nome Salvador Dalì. Questo dipinto, lo vedete, è proprio strano, è molto diverso da quelli che siamo abituati a vedere. Anzi, piuttosto che definirlo strano, possiamo usare un'altra parola, spettacolare. Forse è proprio il sentimento di stupore e di meraviglia che l'artista vuole suscitare a chi si trova davanti alla sua opera. Qui Gesù non è visto, come siamo abituati a vedere in altre opere, in posizione frontale, ma lo osserviamo dall'alto verso il basso, come lo vedrebbe Dio Padre dal cielo. L'artista racconta che, per realizzare l'opera, si è ispirato sia ad un disegno di un grande santo spagnolo che si chiama San Giovanni della Croce, da cui deriva anche il titolo di questo Cristo crocifisso. San Giovanni della Croce, infatti, disegna Gesù visto dall'alto e sia da un proprio sogno. Una notte, infatti, il pittore sogna Gesù sulla croce, senza la corona di spine. Il suo corpo non ha ferite e non è nemmeno presente il chiodo sui piedi. Egli vede la croce dall'alto, sospesa nel vuoto, uno spazio nero che viene illuminato dall'alto da una luce divina. Salvador Dalì, allora, dipinge questo crocifisso e, in basso, vediamo un paesaggio terrestre. Sia Gesù, sia il mondo, ricevono la luce dall'alto, cioè da Dio, colui che illumina e dà vita a tutte le cose. Il paesaggio che si vede in basso è quello di Port Ligat, una città che si trova in Spagna. Si notano un lago, una barca, dei pescatori e delle montagne in lontananza. Anche se questo risulta essere un ambiente forse conosciuto dall'artista, la barca e i pescatori a noi ricordano i primi apostoli, più precisamente Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. E il lago ci ricorda il lago di Galilea, dove essi pescavano prima di essere chiamati da Gesù. Sappiamo che Gesù, prima di morire, nomina a San Pietro guida degli apostoli e gli affide il governo della chiesa che stava nascendo. Il pittore vuole forse farci riflettere sul fatto che la chiesa riceve da Dio la luce e la forza per riuscire a navigare nel mare che è il mondo e che essa è chiamata a portare questa luce di Dio a tutti i popoli.